Poesia e musica sabato sera al Castello Incantato di Sciacca, dove Maria Grazia Ventivegna ha presentato il suo terzo libro di poesie, intitolato Uno scorcio di vita. Sono intervenuti durante la presentazione l'assessore alla cultura Salvatore Monte e il professore Franco Lobue, mentre Tiziana Marino, Samantha Misuraca e Carmelo La Greca hanno recitato alcune delle liriche presenti all'interno del volume, ad aglietare la serata le canzoni di Calogero Scalici. Io sono convinto che oggi, così come nel passato, chi fa arte ha dei lati nascosti. Qui vedo anche altre persone che hanno scritto, c'è magari chi scrive dei testi un po' più tecnici, chi si lascia andare a delle situazioni personali, però io credo che c'è una parte dell'artista che sta nascosta, sta nel cuore, sta in quell'angolino che magari noi non stuzzichiamo e poi ci sono quegli artisti che questo angolino decidono di metterlo a nudo totalmente e di regalarlo al prossimo. C'è chi lo fa magari dipingendo un quadro e quindi lascia delle emozioni a chi passa, ci si sofferma davanti al quadro e si cerca di captare quali possono essere i sentimenti che l'artista ha posto in essere quando dipingeva. Maria Grazia invece si mette a nudo e ci racconta parte della sua vita, parte delle sue emozioni, parte dei suoi pensieri e delle sue opinioni tradotte in poesia e credo che non ci sia cosa più bella perché spesso quando ognuno di noi cerca di dare un'opinione su una cosa va spesso in contrasto con chi magari l'ascolta, si apre il dibattito. La libertà invece di scrivere un libro, di raccontarlo in poesia è sicuramente una cosa fantastica. C'è un filo conduttore perché il libro comunque fa una sorta di mega volata su fatti realmente avvenuti, c'è un omaggio, tanti omaggi alla nostra città, si passa dalla patrona, dalla nonna del soccorso al carnevale ma si passa anche a personaggi che hanno operato e che vivono nella nostra città. Quindi Maria Grazia da bravissima e buonissima saccenze racconta aneddoti e storie di persone che noi non dobbiamo dimenticare.